Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto categorie CMS Corporation Gutokuru. Figure Collection 52 Motoko Kusanagi Coming Strongly. Body Sits e Eiget, About 210 mm. Target Gender, Boy. Age. 15 years. Shiro Masamune Production Midkodansha Ghostinteshell Production Committee. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.